Musica Quindi abbiamo una serata veramente ricca di cose da vivere ma anche di emozioni importanti perché questa è la non edizione del premio Beatrice, un premio che conoscete benissimo insomma lo conoscete ormai da tempo e un premio che nasce da una dedica importante è una persona speciale, ovvero Beatrice bevi l'acqua Musica Siamo con Federica Camba, produttrice discografica, poi scrivi le canzoni e le interprete e le canti ovviamente Te la canto e me la suoni Te la canti e te la suoni, primo anno il premio Beatrice Federica È il primo anno e devo dire che è stata un'emozione veramente incredibile per questo teatro a parte il motivo per cui siamo qua, ma il teatro è una bomboniera e risuonava l'emozione perciò è stato bellissimo Tu scrivi, hai scritto per Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Emma, Neck, Marco Masini, Max Gazzè, Anna Lisa, Gianni Morandi, Roberto Tozzi, Anna Totangelo, Marco Carta, Valeria Scano ed Elodie Quanto tempo ci impieghi a scrivere una canzone? Dipende? Davvero dipende, dipende perché ci sono canzoni, per esempio quelle che mi svegliano di notte Al volo, di getto Esistono Tutto è intero, di conseguenza il tempo di scriverla è veramente 5 minuti E siamo qua con lui, il grande Gene Gnocchi Devo dire che Gene è un sodalizio tuo fratello e te col premio Beatrice, vero? Ci passiamo il testimone, oggi non poteva lui, vengo io, la prossima volta non potrò io, verrà lui, poi verrà mia sorella, altro mio fratello, mia mamma e quindi farà tutta la famiglia Farà tutta la famiglia Abbiamo sentito che tu hai cantato con i Pink Floyd Sì, abbiamo fatto un pezzo, infatti stasera con un vecchio repertorio di Pink Floyd, poco conosciuto Però io mai come cantante è da anni che purtroppo l'Eurovision non mi ha mai voluto, neanche il Festival di Sanremo Però con gli effetti speciali secondo me ce la puoi fare Infatti è quello che puntiamo soprattutto su quello, spero che ci abbia visto Amadeus Ebbene sì, qua con noi, due direttamente direi dei talent possiamo dirlo Deborah Iurato che viene da Amici, ciao Deborah Grazie, ciao a tutti E poi quel disgrazione Ah Uede che ha fatto l'Isola dei Famosi Che è un talent dove praticamente vince chi non muore Esatto, chi dimagrisce di più, perciò farebbe molto bene a me Com'è Deborah? Intanto vabbè, noi ti ricordiamo, l'abbiamo detto prima, il mio collega a Sanremo C'era anch'io quella volta lì nella sala stampa, insieme a Caccamo Però questa sera parliamo del premio Beatrice E cosa vuol dire essere qua per un momento di solidarietà? Il primo anno penso Primo anno per me, tra l'altro io ringrazio davvero di cuore tutti gli organizzatori Francesco Rino Davoli Perché sicuramente è un tema a cui sono particolarmente legato Anche tu il primo anno, il premio Beatrice Come appunto diceva Deborah Oltretutto parliamo di... ha unito anche degli argomenti molto importanti Perché doppia difesa di Michel Unziker, perciò sulle donne E poi appunto, vabbè, il sorriso di Beatrice Che aiuta tutti a sostegno degli ammalati di cancro Insomma diciamo che ha riunito più cose Assolutamente, è stato meraviglioso Anche vedete poi il cast variegato, no? Che comunque variava da tantissime personalità differenti E che in un modo o nell'altro comunque sono tutte quanti accomunate Dall'altro stesso messaggio perché si vuole mandare Che è lo stesso motivo per il quale siamo poi tutti quanti qui E questa sera si parla anche di sport Perché siamo con un noto giocatore di basket Notissimo Francesco Monti Ciao Francesco Allora, com'è andata questa sera? È andata benissimo, io mi sono divertito tantissimo È stato, come ho già detto anche sul palco Un onore per me essere qui Sia per la tematica Che è una tematica che mi tocca Molto importante E poi mi tocca anche molto da vicino Per vicende personali vissute E sia perché si è riuscito a coniugare La bellezza della musica Dei vari generi musicali Dei vari artisti che abbiamo ascoltato E per me, come sto dicendo Nella mia carriera da cantante Iniziata in questi due anni Parlavamo prima, no? Dopo tale quale diciamo Che hai avuto questa svolta Era un hobby E nel frattempo però Mi sono reso conto che guardandomi intorno È quella la strada che a me faceva stare bene Poi spronato anche da un grande della musica italiana Che è il maestro Totò Cotugno Che mi ha incitato a iniziare Insieme anche a tanti altri artisti italiani È una cosa che mi ha sfiazzato positivamente E che mi ha messo in una situazione Di mettermi a lavorare Tanto perché mi piace Bene, bene